Ciao a tutti, facciamo il recap della Serie A della 37esima giornata, nonché la penultima giornata di Serie A ebbene sì, siamo arrivati quasi alla fine, al round finale ci sono già dei verdetti gli ultimi ci saranno domenica, sabato, venerdì, giovedì, non ci sa, non mi capisco più un cazzo quando giocheranno Ciao a tutti ragazzi, scusate se oggi ho una felpa più pelosa dei peli del mio cane l'ho appena preso in braccio e mi sono impelato schifosamente la felpa era pulita, ma con mio cane diventa sporca subito ragazzi, che giornata, che giornata, la giornata che ci dice che l'Atalanta torna in Champions League che figata ragazzi, che figata, bellissimo, siamo in Champions League, potremmo addirittura arrivare terzi assurdo, le ultime due possiamo giocare anche in ciabatta, è ovvio che io spererei di arrivare terzo mi piacerebbe davvero tanto, ma abbiamo altri verdetti, il Sassuolo in Serie B dopo 11 anni il Verona salvo, il Cagliari salvo, impresa veramente di tutte e due le squadre, ma soprattutto lasciatemi dire di un Verona che era dato per spacciato dopo gennaio da tutti quanti e invece Baroni fa un'impresa e va sottolineata, impresa anche del Cagliari sono veramente contento perché sapete la stima che ho per Ragneri, veramente un uomo di calcio che ci mancherà quando smetterà e complimenti anche al Cagliari, allora andiamo con i risultati e poi ad analizzare la classifica squadra per squadra, tutti insieme appunto appassionatamente iscrivetevi al canale, attivatevi a capire se vi piace, commentate, andatevi a vedere anche i post partita della Serie B di ieri, dell'altro ieri, ci saranno tutte le semifinali in questo canale, anche stasera Catanzaro Cremonese, vi aspetto, andiamo, 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 andiamo allora, Fiorentina-Napoli 2-2, Lecce-Atalanta 0-2, Torino-Milan 3-1, 3-1 con un Toro che prova a prendere quella posizione, ma dopo ne parliamo, per andare in conference servono un po' di incroci strani, ma possono anche succedere, Sassuolo-Cagliari 0-2, ciao Sassuolo, tornerò in trasferta lì, chi lo sa, Monza-Frosinone 0-1, importantissima vittoria del Frosinone di Di Francesco, il Monza si è scansato, lasciamo stare, Udinese-Empoli, polemiche, delirio, gol al cento quattresimo, una roba, un rigore, vabbè, il rigore c'era però, cento quattresimo, vabbè, lascia stare, Interlassi 1-1, Roma-Geno 1-0, Salernitana-Verona 1-2, vittoria veramente preziosissima per il Verona che è salvo, Bologna-Juve 3-3 con un Bologna che era avanti 3-0, rischia addirittura di perdere, incredibile, andiamo, allora, ventesima posizione per la Salernitana, 16 punti, perde, la Salernitana che perde questa partita contro appunto il Verona, Verona, 2-1, non c'è più niente da dire, la Salernitana che ha 16 punti appunto e perde questa partita qua. Diciannovesima posizione per il Sassuolo che appunto ha 29 punti, capite bene, la Salernitana ha 13 punti di distacco dalla penultima, lasciamo perdere, penso sia uno dei peggiori risultati a livello di punteggio totale a fine campionato, con solo due vittorie e ben 25 sconfitte e 78 gol subiti. Comunque, non meno bene il Sassuolo con 74 gol subiti, 7 vittorie, 8 Parigi e 22 sconfitte, 29 punti, sconfitta interna con il Cagliari, il Sassuolo torna in Serie B dopo 11 anni, Ballardini, se non erro, è la sua seconda retrocessione in due anni, l'anno scorso con la Cremonese, quest'anno con il Sassuolo non è più il mago delle salvezze, Ballardini forse non è più buono a fare neanche quello, il mio compaesano con cittadino, con cittadino, un compaesano, io vivo in un paese, lui vive in una città, e comunque Sassuolo in Serie B, Empoli che adesso dovrà ripartire senza, non lo so, con tanti big da vendere, quindi comunque sia un po' di soldi li farà, la storia che comunque da quando è morto il patrone ai figli interessa molto meno, il calcio è un po' la storia che si ripete di Monza, con risultati ben diversi comunque sia, non lo so il futuro del Sassuolo quale sarà in bocca al lupo ai pochi tifosi che ha il Sassuolo, allora Empoli 18esima posizione, è un Empoli che pareggia appunto roccambolascamente a Udine, è stata in vantaggio fino all'ultimo secondo, era una vittoria veramente d'oro, però non tutto è perduto, perché? Perché l'Empoli se la vedrà con la Roma, una Roma che anche se perde è certa del sesto posto e quindi potrebbe anche lasciargliela, capite a me, perché comunque sia la Roma anche qualora arrivasse a pari punti la Lazio sarebbe comunque sesta, se dovesse vincere la Lazio e perdere la Roma, quindi è un Empoli che vincendo può veramente salvarsi e quindi è tutto possibile e tutto si deciderà tra Frosinone e Udinese, obiettivamente secondo me è quella la gara che deciderà chi andrà giù, perché ripeto, l'Empoli secondo me la Roma la può battere, l'Empoli aveva cattiveria anche ieri e con Ipsè, con Ima, con tutto quello che è successo, insomma il gol di Malè annullato, quel rigore all'ultimo secondo del quattordicesimo, minuti di recupero, non me ne vogliano gli Udinese, ma insomma io forse in Empolese sarei abbastanza, mi sentirei abbastanza derubato, non capitemi Udinese, diciassettesima posizione, 34 punti, trova questo punto insperato, se va a Frosinone e vince, l'Udinese è salvo, si deciderà veramente tutto lì, io sapete cosa penso di Di Francesco, quindi per cui sicuramente spererei che si salvasse l'Udinese nonostante le porcherie che ha fatto, perché comunque ragazzi le ultime due giornate, il Lecce si è scansato, ieri quel coso lì, insomma non è che mi piaccia molto come le ultime giornate quello che è successo, comunque lo sapete, io ce l'ho con Di Francesco, non ce l'ho assolutamente col Frosinone né con i Frosinati, che anche lì comunque hanno vinto a Monza in una maniera un po', insomma il Monza si è scansato, vabbè, lasciamo stare, quindi l'Udinese che andrà a Frosinone, 35 punti, un Frosinone che vince appunto a Monza, vittoria importantissima e adesso in casa ha veramente il match point per salvarsi nonostante quello lì in panchina, quindi è tutto in mano del Frosinone, perché se vince è salvo, mentre l'Udinese appunto deve assolutamente vincere in quel di Frosinone e poi sarebbe salvo, lì si decide tutto lì, perché secondo me se l'Empoli vince, appunto va a 36, se non erro, ragazzi se non erro, perché ho lavorato, sono stanco, se il Frosinone gli basta anche il pareggio, non vorrei dire una cazzata, ma penso che il Frosinone va a 36, sì, no, non dico una cazzata, perché l'Udinese ha solo 34 punti, quindi il Frosinone andrebbe a 36, l'Udinese a 35, l'Empoli a 36 e andrebbe giù l'Udinese, quindi veramente saranno 90 minuti di fuoco e soprattutto il campo più importante è Frosinone Udinese, perché all'Empoli volendo penso possa bastare anche un pareggio in caso l'Udinese perda, ecco è quello il mio dubbio, quindi aiutatemi perché oggi l'ho letto e come sempre la mia memoria da vecchio rincoglionito fa sì che io mi sia dimenticato di dirvi questa cosa qui, che cerco sempre di ricordarmela e poi me la dimentico, ovviamente me le scrivo e non le porto dietro, quindi non mi ricordo, però lo sapevo. Cagliari, 15esima posizione, 36 punti, il Cagliari è matematicamente salvo, il Ragnieri portato in trionfo ragazzi, questo signore del calcio ne ha fatto un'altra delle sue, salvo il Cagliari dopo la promozione, era cambolesca l'anno scorso, salva una squadra che non era così forte, diciamo, ha fatto veramente un mezzo miracolo, questa salvezza del Cagliari vale quasi una zona Europa, complimenti davvero agli uomini di Ragnieri, complimenti ai mister Ragnieri che sapete, io stimo in una maniera improponibile, con solo 8 vittorie, si salva, bravo, bravo, bravo Claudietto. Allora, Lecce, 14esima posizione, Lecce che perde la sua seconda partita consecutiva contro la mia Dea, bene, grazie, arrivederci, tanto il Lecce era già salvo, 37 punti, niente da dire, dai, un Lecce che ha un po', anche magari nel primo tempo hanno avuto occasioni un po' anche loro, ma insomma poi con piccoli e tutto quanto, diciamo che l'Atalanta ha meritato la vittoria, 37 punti. Verona, anche lui salvo, 37 punti, un Verona che va a vincere veramente a Salerno, cosa ha fatto il Verona, ragazzi, cosa ha fatto il Verona, il Verona veramente va a vincere a Salerno, ma questa non è l'impresa, ma l'impresa è avere salvato una squadra che sembrava veramente destinata alla più becera delle fini, perché? Perché avevano venduto tutti, perché comunque comunque sia, era, come posso dire, anche la situazione societaria, il buon Carlo che mi segue la dava già spacciata, anche Beppi se non sbaglio, e contento, contento veramente perché Baroni se lo merita, sottovalutatissimo come mister, ecco, un Baroni a Sassuolo avrebbe salvato anche Sassuolo, sono convinto di sta cosa qui. Monza, dodicesima posizione, 45 punti, perde col Frosinone, una partita che non gli cambia la classifica, gli cambia dal punto di vista che non può arrivare più decimo, ma comunque sia, non lo poteva arrivare a prescindere, perché comunque, forse 48-51, no, nemmeno. Quindi è un Monza che ormai ha mollato gli ormeggi, sicuro di tanti addi, il palladino quasi sicuramente, più anche giocatori, insomma è un Monza che ha lasciato passare il Frosinone, 39 gol fatti, 49 subiti, comunque è un Monza che si deve ritenere comunque soddisfatto, è passato in dodicesima posizione, è una squadra che sembrava dopo la dipartita di Berlusconi destinata all'elettrocessione, invece è ancora lì, quindi complimenti a loro, adesso vedremo se ci sarà questo passaggio di proprietà al gruppo Forlivese o quello che sarà, vedremo. Undicesima posizione per il Genoa, 46 punti, un Genoa che perde con la Roma, ma fino alla fine ha rischiato anche di pareggiarla, è un Genoa che non è andato là a passeggiare, il Genoa ci ha anche provato, però ecco è un Genoa che alla fine perde con la Roma, però facendo una buona partita, una discreta partita, bello anche il saluto dei tifosi giallorossi a Strothman, eccetera eccetera, di Lula si parla di un possibile ritorno, tutto è possibile, però ecco bella anche quella storia lì, Gilardino complimenti, perché ricordo che il Genoa è una neopromossa e ha fatto veramente un campionato eccezionale, con tanti begli innesti che adesso gli verranno ceduti, vedi Gudunson, però vedremo, vedremo cosa farà il Genoa quest'altranno, soprattutto se Gilardino resterà. Decima posizione per il Napoli, un Napoli che veramente è una roba allucinante, perché decimi quest'anno, l'anno scorso, squadra aliena che vince un campionato, arrivare con 41, manca una giornata, 41 punti dalla prima è qualcosa di impensabile, penso che davvero nessuno, neanche il più antinapoletano, poteva pensare una roba del genere, è un Napoli che pareggia Firenze 2 a 2, bella doppietta di Quara, comunque insomma è un Napoli che non va in Europa e bah, se la gioca col Torino, ma secondo me alla fine il Toro la scamperà. Torino, terzo risultato un tempo consecutivo, seconda vittoria dopo quella contro l'Ellas di domenica scorsa, vince anche questa col Milan, è un Toro che vuole veramente giocarsi fino alla fine, questa possibilità di Conference League verrà a Bergamo contro di noi, contro noi che avremo le fatiche europee, contro noi già sicuri di una Champions, io spero però che proveremo comunque a vincere per arrivare terzi, a provare a arrivare a terzi, perché ci mancano due partite a noi e non una sola, come la Fiorentina ovviamente, io spero che comunque con Toro e Fiorentina giocheremo per vincerle e non in ciabatte, quindi è un Toro che per me verrà a Bergamo a fare una gran partita, spero veramente vinceremo noi, però ecco, qualora dovesse vincere il Toro e andare in Europa e ribadisco serve la vittoria della Fiorentina in Conference League e in più che la Fiorentina arrivi mi sembra ottava, mi sembra, non sono così sicuro, anche questo me l'ero segnato e ovviamente me l'ho dimenticato, comunque ecco se la Fiorentina arriva ottava o nona, non mi ricordo, ottava o nona, non mi ricordo più, comunque sia a prescindere, la Fiorentina se vince la Conference League il Toro dovrebbe andare come nona in classifica in Europa League, vedremo, 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 in Conference League scusate, Fiorentina ottavo posto, pareggino, comunque sia la Viola nelle ultime 5 ne ha persa una sola contro il Verona, le altre le ha vinte, ha pareggiato questa qui, è comunque una Viola che comunque c'è, è una Fiorentina che comunque c'è e ovviamente, ripeto, adesso ha la testa da un'altra parte, ha mollato in campionato, pensa solo alla Conference, la finale di Atene, vedremo quello che succederà, sarebbe veramente bello avere 9 squadre in Europa st'altro anno. Lazio, settima posizione, Lazio che pareggia contro l'Inter, un po' beffata sul finale appunto dal gol di Danfris, che gli vieterà appunto quel sesto posto che la Roma ha conquistato anche qualora dovesse perdere l'ultima e la Roma attifferà Atalanta e questa ragazzi già sta cosa qui fa solo ridere, nonostante ho letto tantissimi romanisti che scrivono Forza Leverkusen, Dai Leverkusen della serie Fate Capire la Vostra Intelligenza, ma vabbè, al di là di questo, chiusa la parentesi, per fortuna non sono tutti così, Lazio appunto settima posizione, Lazio che pareggia a Milano contro i campioni d'Italia che erano già in festa mentalmente e tutto, però alla fine appunto Danfris la pareggia, un Lazio che andrà in Europa League, Roma a sesta posizione, ribadisco la Roma spera che l'Atalanta arrivi comunque quinta e vinca l'Europa League in modo tale che ci potrebbe andare veramente anche la Roma in Champions, vedremo, vedremo mercoledì quello che succederà, Roma che vince col Genoa di misura e appunto si accaparra al sesto posto, la peggio comunque sarà Europa League, quinta posizione per la mia Dea, quinta vittoria consecutiva nelle ultime cinque, vince a Lecce, conquista per la quarta volta nella sua storia la qualificazione in Champions League, è vero, abbiamo tutti la testa lì, pensiamo tutti a Dublino, mancano due giorni, vedremo quello che succederà, io sarò comunque contento, le tante voci di Gasperini che va via, ci sarebbe già addirittura il nome del sostituto, c'è chi dice Palladino, c'è chi dice Sarri, c'è chi dice che resta Gasper, queste cose avremo tempo di parlarne, penso tranquillamente, abbiamo un'estate davanti, sì è vero c'è l'Europeo di calcio, ma insomma abbiamo tempo di parlare di queste cose, io adesso voglio solo pensare a mercoledì e poi ci andiamo dietro, è ovvio, ripeto e spero che Gasper resta e soprattutto mi piacerebbe davvero che l'Atalanta arrivasse terza, sarebbe qualcosa di fantastico una stagione così, due finali, arrivare terzi, andare in Champions, vedremo, 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 non facciamoci la testa prima di rompercela, quarta posizione per la Juve, la Juve quinta pareggio in cinque, nelle ultime cinque senza Max Allegri, va sotto di tre golla con Montero in panchina, la pareggia, rischia addirittura di vincerla, 68 punti, pari punti al Bologna che però è comunque avvantaggiato dagli scontri e quindi è terza in classifica e complimenti comunque alla Juve che ha avuto questa forza di reagire e pareggiare una partita che sembrava veramente persa contro un Bologna che ha giocato veramente bene per larghi tratti della gara, quasi tutta direi, ha mollato solo sulla fine per poi appunto farsi beffare, Bologna appunto a terza posizione, 68 punti, un pareggio un po' beffa per come è stata la partita, ma grande festa Bologna, delirio totale, appunto mi sembra anche che non gliene fregasse poi più di tanto che alla fine non l'hanno vinta, complimenti veramente a Motta e i suoi ragazzi, staremo a vedere se Motta resterà quello che sarà del Bologna st'altro anno, tant'è, vanno in Champions League e si divertiranno anche loro, un saluto a tutti i bolognesi che mi seguono, seconda posizione per il Milan, Milan che perde contro il Toro, male, molto male perde contro il Toro, un Toro che ripeto ha giocato veramente bene contro il Milan vincendo e convincendo è un Milan che ha mollato gli ormeggi, tanto è sicuro del secondo posto, è un Milan che sicuramente avrà bisogno di rifondare st'altro anno e vedremo quello che sarà. L'Inter, primo posto, 93 punti, è un Inter che pareggia sul finale solo con la Lazio, è un Inter più impegnata a sentire quello che sta succedendo a livello societario con Zhang che non trova i soldi che servono, pare che la società possa essere ceduta, appunto OCTRI poi dopo diventerebbe proprietario e poi essere ceduta a un fondo americano, vedremo anche qui, avremo tempo di cui discutere di queste cose nei vari video di calciomercato che farò quest'estate, mi raccomando continuate a seguirmi, c'è il calciomercato, l'Europeo di Calcio, abbiamo tante cose in cui parlare alle amichevoli estive, quindi continuate a seguirmi. Andiamo a vedere appunto la prossima giornata, influente per tante cose, tranne che appunto per la zona salvestra abbiamo un Cagliari-Fiorentina, un Genoa-Bologna e anche per la terza, quarta, quinta posizione, quello sì, Juventus-Monza, Milan-Salernitana, perché tra la terza e la quinta posizione se non sbaglio ballano una decina di milioni, insomma non brustole, Juve-Monza, Milan-Salernitana, Atalanta-Torino, Napoli-Lecce, Empoli-Roma, che appunto con la vittoria dell'Empoli, l'Empoli sarebbe salvo, Frosinone-Rinese, anche qui veramente pirotecnica è da vedere, Verona-Inter, la Sassuolo, la Sassuolo, la Sassuolo, la S, la Z, la S, vicine al Romagnolo, è la fine. Ragazzi, come sempre, vi ringrazio di aver visto il video fino a qui, iscrivete al canale, attivate a campione, metti un piaccio, mi vedete, commentate, ci vediamo settimana prossima con l'ultimo recap di Serie A, ci vediamo ovviamente stasera per l'altra partita di semifinale tra Catanzaro e Cremonese, e di Serie B ovviamente, dei play-off, poi ci vediamo domani con il post partita della Dea, speriamo che sia un post partita di festa, ma ribadisco, non lo dico per essere un paraculo, io sarò comunque contento, è ovvio che se due finali le perdo tutte e due, sarò molto triste, ma spero veramente di essere felice a prescindere, a meno che ce la giochiamo bene, poi vediamo quello che sarà, sarà. Ragazzi, iscrivete al canale la terapia campina, mi piace, ci vediamo, ci vediamo al prossimo video, posto a moto, ciao!